Amara sorpresa per i proprietari di due auto parcheggiate all'interno di un condominio di via Paladini. Alcuni ladri sono infatti penetrati all'interno del condominio stesso e hanno rubato i fanali delle vetture. Un furto insolito, messo in atto dai malviventi e sul quale sta adesso indagando la polizia. Gli agenti hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia dai proprietari delle auto. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sono introdotti all'interno del condominio e hanno anche danneggiato gli ingressi di alcuni garage. Saranno ora gli accertamenti degli investigatori della Questura a ricostruire il quadro indiziario.